e salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono frank494 in questo nuovo video sono al passaggio livello per il treno ed eccolo un minuetto cavolo un transito veloce mi aspettavo un po più di attesa vabbè per questo video è tutto ragazzi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti